Rinnovate le cariche istituzionali delle sette commissioni permanenti del Consiglio regionale. Al termine del passaggio di metà legislatura, la prima commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio ha votato all'unanimità la conferma del Presidente Giacomo Bugliani, della Vicepresidente Elisa Tozzi e della Vicepresidente segretaria Valentina Mercanti. La seconda commissione sviluppo economico e rurale ha confermato all'unanimità Ilaria Bugetti presidente, Vittorio Fantozzi vicepresidente e Mario Puppa vicepresidente segretario. La terza commissione sanità e politiche sociali ha confermato con voto unanime Enrico Sostegna alla Presidenza, Andrea Ulmi vicepresidente e Andrea Vannucci vicepresidente segretario. La quarta commissione territorio, ambiente e mobilità e infrastrutture ha votato all'unanimità la conferma della Presidente Lucia De Robertis, del Vicepresidente Alessandro Capecchi e del Vicepresidente segretario Cristiano Benucci. La quinta commissione istruzione e formazione beni e attività culturali ha confermato all'unanimità Cristina Giacchi alla Presidenza, Luciana Bartolini vicepresidente segretario e Maurizio Sguanci vicepresidente segretario. Confermati all'unanimità il Presidente Alessandro Capecchi, il Vicepresidente Andrea Pieroni e la Vicepresidente segretaria Silvia Noferi della Commissione di Controllo. Voto unanime anche per la conferma dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, il Presidente Francesco Garzetti, il Vicepresidente Giovanni Galli, la Vicepresidente segretaria Anna Paris. Oggi è stata l'occasione della riconferma dell'Ufficio di Presidenza della Prima Commissione. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come Presidente di Commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della Prima Commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della Prima Commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio e documenti di economia e finanza ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La Prima Commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella Commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Con questo rinnovo di mandato, che riguarda non soltanto la Presidenza ma anche la Vicepresidenza, la consigliera Elisa Tozzi e anche la consigliera segretaria Valentina Mercanti, sono sicuro che si potrà ripartire al meglio per portare a compimento tutte le importanti attività che ci attendono. Ma devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma Vicepresidente, segno che in questa Commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra Commissione è una Commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio e un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della Commissione. Il lavoro è stato proficuo e io credo che in questi due anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente approvazione del piano regionale di sviluppo ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Penso anche a un'attività riformatrice, abbiamo parlato molto spesso della necessità di intervenire sul riforma del regolamento, abbiamo affrontato modifiche statutarie ma sicuramente non mancheremo di portare avanti altre iniziative di questo tipo. Un'attività legislativa che sicuramente in questi ultimi due anni e mezzo dovrà caratterizzarsi per una maggiore intensità anche in un'ottica di semplificazione. Sì, assolutamente soddisfatta per questa riconferma. Sarà un lavoro importante per i prossimi due anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione, non sono mai mancati gli spunti critici ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa Commissione, la Presidente Bugetti e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della Commissione e l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Sì, sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale col lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario dove ci sono tante sfide sui personali, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento che tutta la Commissione e il Consiglio regionale e tutto abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'ufficio di presidenza tutto abbiamo fatto. Ovviamente abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo per quanto mi riguarda faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. È venuta sì a una limitata parte della Commissione, ringrazio il Presidente per la proposta, i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico, ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi due anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza o di minoranza faremo un buon lavoro. Sì, abbiamo confermato l'ufficio di Presidenza, in qualità di Vicepresidente continuerò ad occuparmi di temi a meccari dall'assetto del territorio all'ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti e continueremo a lavorare, naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni come abbiamo fatto fino ad oggi per due anni e mezzo, fino alla fine della legislatura e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. Sì, sono contenta di poter continuare a servire il Consiglio regionale in questa posizione. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi due anni e mezzo, abbiamo avviato gli stati generali della cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine. Insomma, è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi due anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. I lavori di stamani sono proceduti regolarmente, è stata confermata la Presidenza, la Vicepresidenza me compresa e quindi si continua a lavorare con gli stati generali della cultura. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale e una Commissione si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza tra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati cioè di tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla Secretaria Silvia Noferi e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta. Non mancando naturalmente di ascoltare anche le denunce, le segnalazioni per quanto possibile da parte di cittadini, comitati, associazioni che ci possano far notare ciò che possiamo approfondire nell'interesse generale. Sì, mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella Commissione Controllo che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il Consiglio regionale per approfondire quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del Governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea Consiliare. Innanzitutto voglio ringraziare le colleghe e i colleghi della Commissione che hanno voluto confermarmi alla guida della nostra realtà così come mi congratulo con i vicepresidenti Giovanni Galli e Anna Paris. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi di questa Commissione e la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione. Un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. Ma intanto devo dire che in questi due anni e mezzo l'ufficio di Presidenza e tutta la Commissione ha fatto sì che diventasse qualcosa di istituzionale e soprattutto di prendere un pochino più forza all'interno proprio del Consiglio stesso. Per cui siamo decisamente molto felici di questo percorso, di questo cammino. Abbiamo già fatto delle cose interessanti, non l'ultima quella che è l'incontro che andremo a fare fra qualche minuto. Per cui il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse nelle istituzioni e far allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa. Nell'ambito delle giornate dell'Europa, il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista giorgiana Nana Malashkia, conferendole una targa per il suo impegno e coraggio nella difesa dei diritti e dei valori europei. Le immagini che la ritraggono sventolare la bandiera europea mentre affronta gli idranti della polizia durante le proteste dell'8 marzo a Blisi hanno fatto il giro del mondo. Per l'attivista giorgiana, la sua azione riflette la convinzione della maggior parte dei giorgiani che la libertà, la democrazia e altri valori fondamentali dell'Unione Europea siano ideali per cui vale la pena combattere. E nonostante la minaccia rappresentata dalla Russia, la Georgia è pronta a lottare per i valori democratici e aspira ad entrare a far parte dell'Unione Europea. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato, emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tanti altri ragazzi, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, e entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Come popolo georgiano stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti nella nostra lotta. Questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano perché come sappiamo anche adesso nel 2023 solo 40 chilometri a distanza dalla capitale georgiana, Tbilisi, c'è la presenza dei militari russi. Non è solo la nostra scelta come popolo ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea e nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continuano a metterci nella Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni modo di integrarci nell'Unione Europea. Penso che il desiderio, così grande volontà del popolo georgiano di integrarsi nell'Unione Europea merita l'accoglienza perché durante tutti questi anni ha combattuto sempre e capisce benissimo, si rende conto della situazione difficoltosa ma nonostante questo tutte le minacce da parte della Russia continua e cerca di arrivare al suo obiettivo. Il Consiglio regionale attraverso la Commissione Europa, l'Ufficio di Presidenza ha voluto svolgere questa iniziativa che è un momento di incontro, è un momento di ascolto, è un momento che serve anche per raccogliere degli elementi di valutazione. Poi sappiamo perfettamente che i percorsi e le dinamiche dei Paesi appartengono alle comunità e soprattutto a chi ha il compito di guidare le nazioni e ovviamente anche le scelte che devono essere intraprese. Quindi questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire, semplicemente dire alla signora Nana che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza, che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti. Spesso e volentieri, no? Si utilizza quella frase di odiare l'indifferenza. Noi non vogliamo odiare nessuno. Noi vogliamo però ovviamente evidenziare che ci sono dei valori e ci sono ovviamente dei principi che devono essere rispettati ovunque. Nel rispetto, scusate il visticcio di parole, ovviamente delle libere espressioni e della libera determinazione dei popoli e dei governi che li guidano.